ben a tutti ragazzi, oggi siamo qui su Forza noi oggi entriamo a cercare di fare una vittoria per la vittoria o squadra quindi spero di almeno vincere adesso vediamo adesso una nuova grafica e sono un carburo che ha buoni colori ma ce l'ho sembra uno però c'è i colori più meglio gialli se li fanno sono così carini con colori che bei sono che molti non ho comprato il G512 che perchè non lo sapesse è il Mosman ninja e adesso lo scatare lo scatare lo scatare lo scatare lo scatare lo scatare non va però è importante anche se sto fightando me lo fa fare perchè sennò mi incazzo e che cazzo sto ci perchè che hai qua qua la . 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 Cominciamo che abbastanza bene, abbastanza non bollì bene. Ok. Se sentite aria il ventilatore perché oggi si muore veramente di caldo. Alla prossima. 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 Oh cazzo qua c'è un bel feat. Alla prossima. 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 Va. Alla prossima. Chi. sto cominciando ad allargarmi un po' però è perchè sto registrando dovrebbe un po' 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 ok allora che pezzo di merda lo sapevo che si è messo ok 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 bello mamma solo c'entravo godin ok ok devo salire no secondo me qua e son morto allora ecco lì no guarda ok 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 ma partire macchina ok 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 che cazzo sta diventando quel cerco cazzo volo prendermelo tutta quella roba cosa pezzo di merda c'è il bolt d'oro no anche questo qua ci aveva non c'è qualcuno che vuole prenderle no sì o no che cazzo fai ma perchè è lag da far schifo tutto il giorno ok 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 stavolta ok 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 ragazzi ok 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non non è più lino che brutto figlio di puttana minchia se l'ho visto e c'è il testolino no non l'ho più vista a volte mi si bagga se faccio così lo vedo quel pezzo di merda ah perchè devo andare avanti anch'io adesso sei un fottuto pezzo ok pazzo male vuole proprio prendersi un po' non vabbè ma i morice gli uomo vaffanculo è il problema che non ho materiale su ca io vado a buttarmi il pezzo di merda qua che avrà avuto un po' di materiale che avrà avuto un po' di materiale c c coglioni e non mi fa ma devo ancora andare più avanti c 4 ma mi ero toccato ma pesante c'ero quasi c c e sapevo che non è lì tanto testa di culo c che si mette senza muro davanti c però lui è aggressivo cazzo nooo poche cazzo ma porca troia manco una volta lo credo c c c c come finire tutto il materiale mi sta facendo questo c mi sto anche per rompere i coglioni io però c 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 tu sei tutto drogato finocchietto c c c c c No, 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 tu non mi ti meti, no Succa, sono morto, sono fattutamente morto No, ma la sa che c'è il Jugg Dio sul metallo qua sotto praticamente Eccolo Eccolo E' bravo Ma non ci credo Ma come cazzo fa? Quante kill ha fatto? 11, vaffanculo non hai più di me Cazzo Quanti punti di merda ho fatto? Porca troia